Alto Vicentino al setaccio con comitanti operazioni di questura con Polizia Municipale e dei Carabinieri contro lo spaccio e la microcriminalità identificate dalla Polizia 28 persone di cui 9 con precedenti avviate per un nord africano le procedure per l'espulsione e per un altro si sono aperte le porte del centro per il rimpatrio di Bari arrestato un trentenne gambiano irregolare per spaccio e blizza dei Carabinieri invece in un appartamento e una frazione di schio di richiedenti asilo è diventato di fatto centro di smercio di varie sostanze stupefacenti per tre nigeriani di 23 e 24 anni sono scattate le manette ma uno solo finisce in carcere e degli altri si perdono le tracce denunciato un albanese accusato di truffa ad un commerciante aveva comprato nove stufe a pallets ma al momento del saldo era sparito